di nuovo buongiorno bentrovati mauro ciutini studio code sull'a1 viabilità esterna che non riceve a firenze scandici in uscita sempre in a1 rallentamenti tra firenze in pruneta e l'allacciamento con la 11 in direzione di bologna lavori anche tra fabbro e chiusi chianciano in direzione firenze passiamo alla 11 anche qui lavori nella diramazione lucca via reggio tra lo svincolo genova rosignano e massarosa in direzione della a11 sulla statale 12 quella della betone del brennero ci sono lavori di manutenzione tra il valico della betone pavullo nel frignano chiudiamo con firenze sono in corso lavori di risanamento stradale in piazza san marco tra via cavur e via lapira lavori previsti fino al 28 di settembre di vieto di transito nella corsia attigua a quella centrale muoversi in toscana con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze